L'emergenza coronavirus risale il tasso di positività in Basilicata. A fronte di un migliaio di tamponi processati sono quasi 70 i lucani che hanno contratto il virus. In aumento i positivi a senise, mentre a Rotonda ha prorogato l'obbligo di mascherina all'aperto e cresce anche il tasso di ospedalizzazione. Attacco frontale della consigliera delegata alle politiche culturali Sileo alla dirigente della regione Minardi, motivo del contendere la presenza come attrice in uno degli spettacoli finanziati dal Piano 2021. Poi torneremo a parlare del caso Ventre, mamma palma a senise per raccogliere l'abbraccio e la solidarietà della comunità di cui era originario il 35enne morto il giorno di Capodanno nell'ambasciata italiana in Uruguay. Area di rimpasto in giunta per il sindaco Bernardi a Matera. Dopo le fibrillazioni estive, ora i tempi sembrano maturi. Treppio a rischio l'assessore alle politiche sociali, Sarli. E da questa mattina in corso il Golden Gala, città di potenza di Beach Volley. Otto coppie in gara nel tabellone maschile e femminile. Tutte le partite in diretta sulla nuova TV. Buon martedì 24 agosto a tutti voi, rieccoci in studio per l'appuntamento con le notizie dalla Basilicata. In apertura all'emergenza coronavirus nella nostra regione risale il tasso di positività. A fronte di un migliaio di tamponi processati sono quasi 70 i lucani che hanno contratto il virus. In aumento i casi a senise, mentre a rotonda è stato prorogato l'obbligo dell'uso di mascherini all'aperto. E cresce anche il tasso di ospedalizzazione. Ma ci aggiorna Michelangelo Russo. Torna a sfiorare il 7% il tasso di positività dagli ultimi 1.012 tamponi processati. Sono stati riscontrati 69 casi tra i residenti lucani, 45 i guariti. Ma a preoccupare l'incremento del tasso di occupazione dei posti letto nei reparti Covid, ora all'11% per via delle 42 persone ricoverate. Terapie intensive comunque vuote. Aumentano ancora i contagi a senise, ben otto in più a fronte di 120 test effettuati con due negativizzazioni. Attualmente sono 62 i casi attivi nel comune della Valle del Sinni, mentre si allarga il fronte dei focolai. Cinque casi scoperti anche a Calvello, tra coloro che si erano sottoposti inizialmente ad un test rapido. L'ASP è al lavoro ora per definire il tracciamento dei contatti stretti. A rotonda prorogata l'ordinanza che impone l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto. Nuovo termine del provvedimento fissato ora al 6 settembre. 24 i casi attivi, due i pazienti in cura a San Carlo. A Maratea invece da domani si tornerà alla normalità. Tamponi in corso anche a Palazzo San Gervasio. Interessati i braccianti che hanno deciso di accedere al centro d'accoglienza entrato in funzione ieri. Una decina sin qui le persone testate con una positività già rilevata. Sul fronte vaccini oltre 150 le somministrazioni effettuate ai migranti nel punto vaccinale di metà ponto. Mentre in tutta la regione è risalito il numero delle dosi consumate, 3.325 in 24 ore. Con il 70,6% dei lucani a metà percorso di immunizzazione e il 55,9% che invece ha completato il ciclo. L'ultima pagina è un attacco frontale quello della consigliera delegata alle politiche culturali di Nasileo alla dirigente della regione Patrizia Minardi, motivo del contendere la presenza come attrice in uno degli spettacoli finanziati dal Piano 2021. I dettagli da Celestino Benedetto. La denuncia è forte e non si presta ad interpretazioni di sorta, questioni di merito ed anomalie da sanare. È un vero e proprio scontro frontale quello tra la consigliera delegata alle politiche culturali della regione, Dina Sileo, e la dirigente dell'ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Patrizia Minardi. Che da tempo non ci fosse sintonia ed unità di intenti, era cosa risaputa. Nei giorni scorsi del resto, lo strappo era stato evidente nel corso della riunione congiunta della seconda e quarta commissione consigliare, con il voto contrario espresso proprio dall'Asileo al piano regionale dello spettacolo 2021. Si continua a ricalcare una visione che non orienta gli interventi, ma finanzia e basta il senso delle esternazioni dell'Asileo, chiamata ad assumere da quasi un anno, su incarico del Presidente Bardi, una delega politica e di indirizzo. Possibile, attacca la consigliera leghista, che non ci si scandalizzi se chi redige gli atti ne cura l'istruttoria, ne predispone la graduatoria, sia poi la stessa persona che pubblicizza, promuove e addirittura è su Locandina, in qualità di attrice in uno spettacolo culturale finanziato anche dalla regione. Un'evidente anomalia o inopportunità, insiste, o forse anche un leggero profilo di abuso della posizione dirigenziale. Lo spettacolo in questione per la cronaca è Pianeta Pandemia, a cura del Centro Mediterraneo delle Arti, il cui direttore artistico è Ulderico Pesce, in programma a Matera il prossimo 3, 4 e 5 settembre all'ex ospedale San Rocco. Ora invece torniamo a parlare del caso ventre. Mamma Palma è arrivata a Senise per raccogliere l'abbraccio e la solidarietà della comunità di cui era originario il 35enne e morto il giorno di Capodanno nell'ambasciata italiana in Uruguay. Ma sentiamo Fabrizio Di Vito. Mamma Palma è tornata a Senise per raccogliere la vicinanza, la solidarietà dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità nella sua battaglia verso la verità sulla morte di suo figlio Luca. La famiglia ventre, originaria proprio di Senise, continua a chiedere giustizia dopo quanto accaduto a Capodanno in Uruguay. Il 35enne aveva perso la vita dopo essersi introdotto nell'ambasciata italiana di Montevideo. Dopo l'inchiesta sudamericana archiviata senza nemmeno approfondire il caso, ora è la Procura di Roma ad indagare sull'accaduto e il perito, nominato dai PM Capitolini per effettuare una seconda autopsia sul corpo di Luca, ha avvalorato la tesi della morte per trasfissia. D'altronde le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell'ambasciata lasciavano spazio a ben pochi dubbi. Luca era rimasto immobilizzato a terra e bloccato da un agente di polizia per diversi minuti. Un'impossia che sarebbe stata fatale al 35enne Lucano che cercava aiuto all'interno dell'ambasciata per tornare il prima possibile in Italia. Il poliziotto risulta essere indagato per omicidio pretreintenzionale. Il sindaco di Senise, Giuseppe Castronuovo, ha assicurato tutto il sostegno dell'amministrazione comunale alla battaglia della famiglia Ventre, dicendosi pronto a chiedere l'intervento del Ministero degli Esteri sulla vicenda. Ed è proprio la lontananza delle istituzioni che la famiglia Ventre continua ad evidenziare. I familiari di Luca si sono sentiti abbandonati da chi invece avrebbe dovuto essere a loro fianco sin dai primi momenti successivi alla tragedia. Ancora cronaca, strappa di mano la borsa a una donna e fugge. I carabinieri lo individuano e lo arrestano è successo poco dopo le 8 di mattina al terminal bus di Policoro. La vittima era seduta su una panchina in attesa di prendere l'autobus per raggiungere un paesino limitrofo quando un ragazzo di nazionalità straniera con estrema abilitale ha scippato la borsa dandosi alla fuga. A filmare la scena col cellulare un passante è rivelatosi utile per risalire al 23enne nigeriano irregolare arrestato in un giardinetto poco distante mentre rovistava nella borsa. Il giovane è ora in carcere a Matera. Passiamo alla politica. Aria di rimpasto in giunta per il sindaco Bennardi a Matera dopo le fibrillazioni estive. Ora i tempi sembrano maturi. Treppio a rischio l'assessore alle politiche sociali Sarli. Ma ci aggiorna Francesco Gucci. A meno di un anno dall'insediamento dopo le elezioni di settembre scorso l'area di rimpasto nella giunta Bennardi a Matera sembra farsi sempre più densa. Se ne parlava già da prima dell'estate in realtà da quando era iniziato il ballo dei consiglieri con Paterino Visaggi e Di Lecce che da Volt, partito di maggioranza, sono passati i primi due a campo democratico e l'ultimo a gruppo misto. E' Tosti che ha lasciato il Movimento 5 Stelle il più rappresentato in favore di Matera 3.0, lista civica del sindaco Bennardi. Poi altra pedina importante persa per strada dal primo cittadino è stata quella del capo di gabinetto, il contestato Pier Giuseppe Otranto, professore barese caldeggiato da Di Maio, dimessosi meno di un mese fa e che andrà rimpiazzato al più presto. Ora in sostanza bisogna ridisegnare l'assetto della giunta con il Movimento 5 Stelle che cercherà di mantenere le proporzioni rispetto al Consiglio Comunale e gli altri che lotteranno per non perdere i propri assessori. Secondo quanto trapela da ambienti vicini al Comune a perdere il ruolo potrebbero essere in molti, in primis l'assessore alle politiche sociali sarli. A rischiare poco o nulla invece Colella, Nicoletti e Doppido, Di Giglio dei Verdi è uno tra i socialisti, tanto nessuno. In realtà non c'è nessun'area di rimpasto e comunque nel caso certamente non a breve, ha dichiarato stemperando il clima il Presidente del Consiglio e il leader pentastrellato Antonio Materdomini. La maggioranza è salda e andiamo avanti con il nostro assetto. Se Materdomini però appare sicuro, Volt mette le mani avanti su Facebook. A causa di disegni di partito e inganni alla città, si legge, si vuole cambiare la maggioranza. Volt ne uscirà ridimensionato ma, purché non si snaturi il programma originale, sarà sempre al fianco del Sindaco. Vero o no, sicuramente non sono i giorni più sereni quelli che si vivono in Piazza Aldomoro. La maggioranza appare ancora stabile ma è rimpasto inevitabile. Del resto, se qualcosa dovesse accadere, avverrà velocemente. Basta solo aspettare. Ora le imminenti elezioni comunali a Vigianello. Il Sindaco uscente Antonio Rizzo nelle scorse ore ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi per un secondo mandato, rilanciando la sfida raccolta cinque anni fa dopo diverse legislature non arrivate a fine mandato. La pandemia ci ha resi stanchi, suscettibili a tratti, ha generato immobilismo. Ecco perché, spiega Rizzo, ricominciare e continuare alzando il livello può essere ancora più stimolante. Ed ecco perché annuncio la mia ricandidatura per portare a compimento il lavoro di tre anni amministrativi e due di emergenza per accompagnare la comunità ad uscire dalla pandemia e avviare tutti i lavori già finanziati e cantierabili. Già domani alle 19 è previsto il coordinamento elettorale sul terrazzo del centro commerciale in località Ansole Conte. E anche oggi giornata rovente sul fronte incendi a Sant'Arcangelo in località Monticello a fuoco un capannone contenente paglia e sono qui coinvolti anche diversi mezzi agricoli. Sul posto i vigili del fuoco da Potenza, Villa d'Agri e Terranova del Pollino, mentre a Matera diversi roghi in città e dintorni, dallo svincolo della Martella sulla Statale 7 a Contrada Lavaglia fino a Via Cosenza e Via Mattei, impiegati tre mezzi e sette uomini. E con questo andiamo in pubblicità per alcuni istanti. A fra poco. Parco Tompagnulo a San Cataldo di Bella, nuova gestione. Immerso nel verde, il Parco Tompagnulo offre vasti spazi per grandi e piccoli, un servizio professionale attento alla cura dei dettagli con la possibilità di usufruire di una consulenza completamente gratuita per progettare ogni tipologia di eventi privati di alto livello. Parco Tompagnulo aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena a pranzo su prenotazioni per informazioni 349 34 44 066. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia, una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti la tua comodità è in buone mani. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile. Ristrutturazioni chiave in mano con noi. Eccellenza qualitativa, la garanzia di affidare ogni fase, processo e lavorazione a noi, la chance di avere una ristrutturazione sartoriale con il massimo della convenienza e del comfort. Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero. Via Siena 4 a Potenza. Telefono 0971 36 91 8 339 69 44 620. Riprendiamo il Tg parlando di viabilità. Ancora nessuna data per l'apertura dell'ultimo tratto della Bradanica. Verso Matera il sindaco di Irsina, Nicola Morea, non si rassegna ai silenzi di chi ha pomposamente indicato date per l'apertura dell'ultimo tratto. Prima l'indicazione della riapertura a novembre 2020, poi dicembre, ancora marzo, aprile, maggio e infine il 30 giugno. Comprendiamo le difficoltà esistenti e anche le motivazioni che ad oggi impediscono l'apertura del tronco. Ma chiarezza e trasparenza, afferma il primo cittadino di Irsina, sono pilastri fondamentali nel rapporto tra amministrazione e in quello tra amministrazione e cittadini. Noi non ci rassegniamo ai silenzi, ai vedremo, ai faremo. Pretendiamo date certe, motivazioni concrete. Per ora però nessuna risposta dalla Regione. Ne ricordiamo che si tratta di un'opera fondamentale per il territorio, attesa ormai da quasi 50 anni. E con proprio provvedimento il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha regolamentato lo svolgimento della fiera del 27 agosto prossimo e della fiera dello Zang ricadente il 23 ottobre, secondo il percorso espositivo del mercato mensile. L'utenza potrà accedere all'area mercatale da tre ingressi all'altezza del campo sportivo FIGC, il ponte pedonale di collegamento tra via della chimica e via della fisica, salvo chiusura temporanea, e via dell'edilizia all'altezza degli uffici RAI. Tre anche le uscite, il ponte carrabile di collegamento tra via della chimica e via della fisica, fine traversa mercatale di via dell'edilizia e la fine del percorso dei posteggi in via della fisica all'altezza del bar Maison du Café. Per gli utenti obbligo di mascherina e green pass con l'avviso che saranno effettuati controlli a campione e saranno sanzionati i soggetti privi di certificazione Covid-19. Cambiamo argomento, si chiama Ambasciatori e custodi del territorio, è il progetto di quattro associazioni regionali volto a far conoscere i parchi lucani. Il primo evento si è svolto a Tricarico e lo ha seguito per noi Vito Sacco. Ambasciatori e custodi dei territori è un progetto regionale realizzato nell'ambito di estate nei parchi e nelle aree protette della Basilicata 2021 da una rete formata da quattro associazioni, due centri di educazione ambientale, il Carrubo di Matera e Università Popolare di Potenza, dall'Associazione di Volontariato Santa Maria della Rocca di Calciano e dalla Proloco di Tricarico. Il progetto consiste nell'organizzare tre eventi nella nostra regione Basilicata per poter conoscere i propri territori in maniera specifica i parchi della nostra regione. Quindi il primo evento si svolge qui a Tricarico nella foresta della Mantinera ed è il giorno 21 agosto. Questo progetto bandito dalla regione Basilicata si chiama Restate nei Parchi, mentre il nostro progetto si chiama Ambasciatori e custodi dei territori. Il primo evento si è svolto a Tricarico lo scorso sabato pomeriggio, un trekking nella foresta regionale della Mantinera malcanale sulle tracce del Nibbio. L'evento promosso oggi è per promuovere l'area protetta della rete Natura 2000. Questo è solo il primo dei tre eventi. Andremo ancora sul parco di Galipoli Cognato, nonché sulle gravine di Matera per promuovere anche questi due siti di interesse comunitario. I partecipanti si sono radunati nell'ex masseria Gagliardi, dove il vicepresidente della Proloco di Tricarico Roccostasi, le guide ambientali autorizzate Gianni Pisicchio e Maria Berillo e Maria Bamundo, vicepresidente di Santa Maria della Rocca, hanno spiegato loro dettagliatamente il progetto. L'associazione Santa Maria della Rocca di Calciano ha aderito a questo progetto perché a noi sta a cuore la tutela del territorio e la promozione. Dal 2019 abbiamo lanciato questo percorso delle Sette Fontane che praticamente rappresenta anche la rinascita per il nostro territorio in quanto valorizziamo sia le sorgenti naturali e le acque presenti e sia il simbolo della vita e quindi della vita che va avanti, della vita che praticamente fiorisce e di tutto quello che può rappresentare il senso positivo della ripresa. Poi tutti sono partiti per una passeggiata di oltre tre chilometri nella foresta della Mantenera, seguendo un tracciato piuttosto impegnativo e mettendo a dura prova la resistenza dei partecipanti, che al termine hanno potuto ristorarsi e ascoltare canti della più antica tradizione popolare tricaricese con la voce il tamburello di Antonio Guassamacchial, la zampogna di Antonio Miseo e la fisarmonica di Gerardo Lotito. Ricarico aderito perché aveva a disposizione un'area che è questa della Mantenera, estremamente selvaggia per certi versi ma comunque fruibile in maniera tranquilla anche dalle famiglie vogliamo dire. Noi abbiamo fatto una passeggiata di poco più di tre chilometri su una pista tracciata con qualche difficoltà di salita ma gradevole e assolutamente praticabile da tutti. E' stata possibile la partecipazione perché qui quest'area fa parte dell'Iba 137 e qui particolarmente vi è una presenza di nibbi reali molto consistente. Le prossime due iniziative si svolgeranno a Calciano il 5 settembre con il trekking nel parco di Gallipoli Cognato, seguendo il percorso delle sette fontane. E' a Matera il 12 settembre con il trekking nel parco delle chiese rupestri sulle orme della Transumanza, il cammino nel tempo. E ora apriamo la pagina sportiva con il calcio di Serie C. Il Potenza comunica che per l'accesso allo stadio in occasione delle gare di campionato è necessario esibire l'abbonamento sottoscritto. Le tessere si possono ritirare dal lunedì al venerdì presso la sede societaria di Pianazzario Sauro 124 dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 e 30 alle 18 e 30. L'accesso allo stadio per chi ha un'età maggiore di 12 anni sarà concesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass in forma cartacea o digitale, contestualmente alla misurazione della temperatura corporea. E inoltre sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l'intero svolgimento dell'evento occupando il posto assegnato in fase di acquisto. E al via questa mattina il Beach Volley Golden Gala, città di Potenza. Da questa mattina appunto nell'area di Piazza Don Bosco le prime sei gare delle fasi preliminari appena terminate. Partite anche nel pomeriggio, le gare le potrete seguire ancora in diretta sulla nuova tv dalle 14 e 30. Ma sentiamo com'è andata da Mariolina Notargia. Coppie di assoluto livello che sono appena rientrate da Palinuro dove si sono sfidate per la tappa del campionato italiano sono state quelle maschili ad inaugurare questa mattina il Beach Volley Golden Gala città di Potenza nell'arena realizzata ad hoc in Piazza Don Bosco in vetrine i corpi scolpiti e la potenza, quella di Nicola Tiozzo e Simone Chinellato che si sono imposti per 2-0 su Andrea Biate e Tiziano Andreatta. Coppie a quest'ultima la guida della classifica del campionato italiano. Ma a figurare ci sono anche Emanuele Alfieri e Mauro Sacripanti che hanno vinto la competizione di Palinuro e che oggi hanno battuto i gemelli di origini brasiliane Paolo e Matteo Ingrosso passando alle coppie femminili da ammirare Agatha Zuccarelli e Sara Franzoni anche loro in arrivo da Palinuro con la medaglia d'argento al collo e Francesca Micheletto e Michela Lantignotti che invece hanno vinto la medaglia di bronzo e che comandano la classifica generale rispettivamente al primo e al secondo posto. Francesca tra l'altro è la sorella del giovane Alessandro che ha disputato un ottimo Olimpiade a Tokyo con la nazionale maggiore di pallavolo. Ci saranno anche Carolina Ferraris e Sara Leoni. Carolina è arrivata al settimo posto insieme a Dalmazzi e Sara al nono in coppia con Godenzoni. A seguire Michela Cugliani ed Erika Ditta anche loro hanno chiuso al nono posto nell'ultima tappa del campionato italiano. Le gare di qualificazione del Beachvolley Gala Città di Potenza si disputeranno nella giornata di oggi e nella mattinata di domani. Le finali per il primo e il secondo posto di ciascuna categoria si giocheranno invece domani sera. E allora come detto non perdete le altre gare a partire dalle 14.30 sempre in diretta sulla nuova TV. Ancora un appuntamento oggi pomeriggio apertura straordinaria della Villa Romana di Malvaccaro a Potenza dalle 17 alle 19 per consentire a quanti lo vorranno di visitare lo storico sito. Ad annunciarlo l'assessore comunale al turismo Alessandro Calella proprio per dare l'opportunità di vedere di persona le strutture databili tra il terzo e la prima metà del IV secolo con tracce risalenti al I o II secolo d.C. Sarà possibile effettuare la visita libera o con la guida? Le informazioni possono essere richieste al numero di telefono 0971 41 5080. Bene, con questo io mi fermo qui per quanto riguarda questa edizione e vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.